Non posso aspettare ad esplorare ancora. Ehi, questo game viene da un studio che ha sorprisato il mondo e ha redifinato... Ok, adesso vi muto io, comunque. Elden Ring. Se non è Kojima, esco. Elden Ring. E' il cosa che gli dice Elden Ring, l'espansione, gli dici. Eh, Rumors, quindi... Ah, Midgar. Sì. Va bene, dai. Va bene, va bene. Sono felice lo stesso. Ma chi è morto? Perché sono... Ma sono morti tutti. Ma Final Fantasy? No, è Fortnite. Pi cazzo? Ma c'è un tornado in Final Fantasy VII originale? No. Anche dopo tutto ciò che abbiamo fatto, è ancora forte. Cosa? Ma io di 13 non mi ricordo niente del set remake, devo rigiocarlo. Guarda che bello! Cosa ha fatto Cloud? Tenete Igor? Sì, Igor ormai... Fa questo e fa Final Fantasy X e partire. Beh, è bello. Cioè, è onestamente bello. E' quello che c'è... La fortuna dei Chocobo. Oddio! 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 Eh? What? Ah, è Pokémon con le armi! Di nuovo! Una bruiserie red! Che figo! I turcs! Ciao! Cidissimo! Questo chi è? Andrew Tate? Chi è? Ci sta, ci sta! Non ho ancora capito i turcs, se sono buoni o cattivi Bellissimo! Eh, comunque tecnicamente è pazzesco Oh, che troia ragazzi, giuro! Che lavoro hanno fatto? Cioè veramente ci hanno messo un mondo intero! Buffi! Ci hanno messo gli attacchi in coppia, bellissimo Vabbè, mi devo rigiocare il set con l'espansione, ho capito È l'ultimo gioco, due player, sì, è il prossimo, è Rebirth, giusto? Si chiama tipo Rebirth Cos'è quella roba? Sai, Firotto è sempre un figo dalla madonna a prescindere 3, 2, 1... Non dirmelo, non dirmelo Cos'è Genesis? Prego Prego no! Scusami Scusami? Quando è che avrebbe ammazzato Tifa, scusami? Ah, early 2024 Con due dischi Con due dischi Due dischi? In due dischi In questo gioco, forse anche l'unico al mondo alla 2CB No, c'era Red Dead Redemption 2 Scusami Poi Scusami Sono un bel grotto, sì, sì, ma cosa è un po' prevedere?